Essere morsicati da un ratto resta uno degli episodi più raccapriccianti nella fantasia delle persone. È successo a Termoli, in via Abruzzi, nel tratto che si conduce con via Cesare Battisti, e l'episodio è accaduto ad una ventenne che è passata di lì e, come spesso succede, scorreva distrattamente con la mano la ringhiera che costeggia il marciapiedi. Il fatto nella notte fra domenica e lunedì, poco dopo 1.30, La ragazza ha sentito il contatto con il roditore e poi ha subito il morso. Immaginiamo lo sconcerto e poi subito la corsa all'ospedale Santimoteo, dove i medici le hanno somministrato l'antitetanica e l'anomedicata, prima di dimetterla e di prescriverle una terapia farmacologica a domicilio. Una brutta esperienza, di cui i genitori hanno preferito dare informazione proprio per indurre all'attenzione le persone transitanti da quelle parti. Si intende che alla base di tutto resta sempre una tentazione di pulizia e derattizzazione che andrebbe fatta periodicamente per scongiurare certi incontri.